Perché Messi ha rinunciato al compleanno di suo figlio? Il giocatore ha dimostrato ancora una volta di essere una leggenda del calcio, anche se non era in campo nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro la Bolivia, aveva l'opzione di tornare a casa e stare con la sua famiglia, tuttavia, ha scelto di rimanere con la squadra argentina, sostenendola anche dalla panchina durante la vittoria per 3-0.